Prendiamo atto della triste realtà. Inzaghi non rinnoverà. Ormai ci ho messo una pietra sopra a questa storia. Siamo al 22 maggio, 5 e 12 di pomeriggio, e Inzaghi non ha ancora rinnovato. La storia va avanti da troppo tempo, sono arrivato al punto in cui mi sono rassegnato. E vi dico, come poi ho detto a diverse occasioni durante quest'ultimo periodo, non riesco neanche a essere particolarmente triste all'idea che lui possa non rinnovare. Perché quest'anno non mi ha entusiasmato particolarmente. Allora, partiamo dal presupposto. Inzaghi per noi è stata una luce nel buio. Bisogna riconoscerlo. Inzaghi è stato l'uomo che è riuscito a fare le nozze coi fichi secchi. Però, dal mio punto di vista, nel momento chiave della sua esperienza sulla banchina della Lazio, lui ha mancato. Non ha mancato di risultati, ha mancato di approccio. Cioè, Inzaghi non ha mai sfruttato una cosa meravigliosa che avrebbe potuto e dovuto sfruttare noi. Noi, intendo noi tifosi. Noi popolo laziale. Inzaghi non ha mai capitalizzato su di noi. Per il bene del progetto Lazio. Cioè, si è detto e si sta dicendo di tutto riguardo al suo rinnovo, al suo mancato rinnovo a questo punto. E l'unica cosa certa è che Inzaghi quest'anno ha parlato poco. E nei momenti chiave in cui avrebbe potuto e dovuto parlare non lo ha fatto. Allora, da una parte io la cosa l'ho apprezzata, non lo nego. Perché lui non ha mai voluto creare caos. Lui, in quanto laziale e in quanto innamorato della tifoseria, ancora più che della società, sicuramente, non ha mai voluto rappresentare un problema né essere fonte di problemi, né essere causa di problemi. Però, come la vita ci insegna a volte, per raggiungere qualcosa di migliore bisogna essere disposti a un male minore. Il male minore a volte poteva essere un pochino di caos. E mi riferisco specialmente al mercato. Cioè, Inzaghi, dopo la stagione scorsa, non ha preteso niente. Non ha usato la tifoseria per pretendere niente. Non ha fatto leva sull'amore che la tifoseria ha per lui e che avrà per lui per sempre, al di là di quello che poi potrebbe essere il rinnovo, il mancato rinnovo. Per forzare un po' la mano alla presidenza. E adesso ci ritroviamo in un momento in cui lui, purtroppo, è anche vittima di un finale di stagione complicato. in cui anche lui ha avuto le sue colpe, perché, insomma, ha avuto le sue colpe. Però, in generale, quest'anno si è percepito poco. Cioè, lui quest'anno è apparso come uno yes-man, che secondo me non è. Ma questa sua apparenza ha condizionato parecchio la percezione che si ha di lui. Cioè, io quest'anno avrei voluto, Inzaghi, avrei voluto vedere Inzaghi sbroccare in qualche occasione di fronte a certi risultati, puntualizzando il fatto che la colpa era della società che non l'aveva accontentato in certe scelte. Perché tanto, se poi a fine anno ti saluti comunque, quantomeno fai del bene all'ambiente, mettendo in luce certi elementi agli occhi di tutti. Perché quest'anno la stagione si è fallita in tante cose per la mancanza di programmazione adeguata. Guardiamo in faccia la realtà. Quello è. Ed è innegabile. Non è che noi quest'anno arriviamo in Europa League per colpa di Inzaghi. Inzaghi paga colpe non sue, ma paga il suo silenzio, secondo me. Cioè, dal mio punto di vista, paga molto anche il suo silenzio. Perché se lui si fosse fatto sentire, si fosse fatto percepire a livello di ambiente, forse adesso avrebbe anche più potere decisionale nel momento. Più potere contrattuale, ecco. Perché si vocifera che appunto dopo la mancata Champions gli sia stata ridotta l'offerta di parecchio. Ed è normale a questo punto lui dica rivederci e grazie. Perché lui ci ha fatto vincere coppe. Con lui abbiamo fatto dei passi avanti. E non l'avremmo fatto con nessun altro. Ed è per quello che io in questo momento vivo una fase di amarezza, mi sta voglia di cambiamento, mi sta disperazione. Perché poi, se leggi certi nomi che si danno per probabili per il posto Inzaghi, ti viene da piangere. Allora, io, quello che dico è, è il momento di cambiare? Secondo me, tristemente, sì. Perché Inzaghi non è, secondo me, pronto in questa fase per continuare così. Cioè, lui in questo momento, lui come allenatore è cresciuto. E avrebbe bisogno di una società in grado di crescere parallelamente a lui. La Lazio purtroppo non è così in questo momento. Io credo che lui avrebbe potuto forzare questo cambiamento facendo un po' quello che ha fatto Gattuso a Napoli. Poi, per carità, pure lì il rapporto si sta per interrompere, però si è fatto sentire Gattuso a Napoli. Con una società che fa molto di più di quello che fa la Lazio, a conti fatti. Napoli, i suoi investimenti li fa. La Lazio no, spesso e volentieri. Per cui, la grande domanda è, ma adesso che succede? Cioè, se va via Inzaghi, che succede? O meglio, quando va via Inzaghi, che succede? Perché ormai lo do apparentemente per scontato, sinceramente. Si vocifera che con SESAO sarà in Italia per... Non si sa. Con SESAO mi piacerebbe, perché è un ottimo allenatore, ha fatto grandi cose col porto e conosce l'ambiente. Dopo con SESAO si fanno nomi che... Dici, Sarri. Sarri a Roma durerebbe un quarto d'ora. E lo dicevo già ai tempi in cui si associava alla Roma. Sarri io non ce lo vedo a Roma, ma minimamente. Su nessuna delle due sponde ce lo vedrei. Non è adatto a un contesto come Roma. E soprattutto non lo vedo all'altezza di un progetto tecnico di un certo tipo. Che non è che Sarri non è abbastanza per la Lazio. È che la Lazio, per quello che fa normalmente, non potrebbe soddisfare le esigenze di uno come Sarri. Quindi non potrebbe permettergli... Cioè, io Sarri lo vedo uno che rende molto bene se viene accontentato. E la Lazio non ti accontentano, per cui sarebbe un continuo braccio di ferro con uno che poi non è che sta zitto come Inzaghi. Ecco. Stessa cosa che ha Tuso. Io che ha Tuso non lo vedo minimamente adatto all'ambiente Lazio. Non mi piace granché neanche tatticamente. Sicuramente non ho grande desiderio di vederlo a Roma, sinceramente. Per quanto abbia fatto ottime cose a Napoli, ma a Napoli con una squadra di un certo tipo, che non è quella che c'ha la Lazio. E che non è quella che forse avrà la Lazio il prossimo anno, visto che potrebbero andar via anche nomi molto importanti. Le alternative quali sono? Cioè, si vociferava di Allegri, ma quello resta un sogno per chi vuole al corsognare. E io non sono fra questi, per quanto mi piacerebbe tantissimo, e poi altri nomi molto meno seducenti, tipo Gotti, tipo... tipo Mijainovic. A me piacerebbe tanto Mijainovic. Ecco, meno seducente non perché non mi piaccia Mijainovic, ma perché so che Mijainovic durerebbe due mesi, forse. E che è... Vista la sua, si dice, incompatibilità con Tare, non so quanto sarebbe funzionale a... Cioè, la Lazio ha bisogno di stabilità. La Lazio ha bisogno di un... La Lazio avrebbe bisogno di un nome forte, in grado di farsi sentire in fase di programmazione. Allora, Inzaghi a volte ha dato la percezione di essere uno a cui... Alla fine va bene tutto. Ti dice, io voglio questo, e io non te lo do. Vabbè, dai. Ecco, è quel vabbè dai che non va bene. Perché ci vuole uno che si faccia sentire. Allora, vabbè. Quindi ci vorrebbe un nome forte. E secondo me, Gattuso, Mijainovic, non sono nomi forti che possono imporre qualcosa. Io perché avrei voluto ai tempi Allegri? Perché Allegri, se ci viene, ci viene con delle... Dopo aver ricevuto delle garanzie. Se non gliele dai, non ci viene. Per cui... No? Non lo so. Comunque, ragazzi, sono preoccupato. Sono sinceramente preoccupato. Perché la prossima stagione sarà complicata. Avendo fallito la Champions, sarà molto complicata. Perché dovremo ripianificare, ricostruire, riportarci all'apice del calcio italiano. Per centrare, speriamo, approssimando un piazzamento Champions. E ci vorrà qualcuno di capace. Di molto capace, sia a livello tattico, sia a livello umano. Perché Roma è una piazza che ti schiaccia. E si è visto in tante occasioni. Per cui... Non lo so. Però ne parleremo. Sicuramente ne riparleremo. Nel momento in cui si dovessero sapere novità. Per adesso, l'unica cosa che si sa, e del motivo per cui ho voluto fare questo video, è che appunto il rinnovo sembra lontanissimo. Di Inzaghi. Però, dal caos a volte nascono cose meravigliose. Anche distruttive. Però, vediamo. Piuttosto che questa stasi inutile, che ormai credo sia evidente e innegabile, e da cui difficilmente si potrà uscire, preferisco un cambiamento netto. Con Inzaghi, io sono arrivato a un punto di credere che non si potrà fare più di questo. E per cui c'è poco da fare. Sempre Forza Lazio. Assolutamente sempre Forza Lazio. e ci si aggiorna appena si avranno novità. Perché c'è veramente bisogno di ripartire. Il prima possibile. Il prima possibile.